Cara acqua, ma quanto ci costi? L'unica possibilità di risparmiare è quella di poter ripristinare in tempi brevi l'esorgente di Cannizzaro, ma fino a quando il comune di Alcamo sarà costretto ad acquistarla da Sicilia Acque, 0,69 centesimi metro cubo più IVA, il salasso lo pagheranno tutti gli alcamesi. L'arrivo da Montescuro avviene da quasi due anni e mezzo, cioè da quando l'ex amministrazione comunale siglò l'accordo dopo la dismissione dell'esorgente di Cannizzaro. L'ultima bolletta che il comune di Alcamo ha pagato a Sicilia Acque riguarda il terzo trimestre, ovvero il periodo dallo scorso primo aprile sino al primo luglio, somma versata quasi 182 mila euro. In un anno la spesa supera i 750 mila euro perché in questa somma va messa anche l'acqua che si perde per le strade. Infatti il contatore di Sicilia Acque gira per annotare tutto l'invio del prezioso liquido. Entro la fine di questo mese l'Urega dovrebbe completare l'apertura di oltre 220 buste contenente le offerte per appartare il rifacimento e sostituzione della conduttura di Cannizzaro per un importo di quasi 2 milioni e mezzo finanziato dall'amministrazione Bonvente. Finanziamento salvato in estremis dall'ex consigliere comunale Ignazio Caldarella l'ultimo giorno utile per impegnare la somma, ovvero il 31 dicembre scorso come ha miso lo stesso commissario Giovanni Arnone. Senza la ferma posizione di Caldarella questa ingente somma probabilmente avrebbe fatto la stessa fine dei 40 mila euro per il riscaldamento del teatro Cielo d'Alcamo che non vennero impegnati, ma al comune quando si verificano disfunzione si accertano eventuali responsabilità. I problemi dell'acqua hanno caratterizzato questo mese di agosto per la vicenda dei pozzi che ancora sembrano concluse e sulla quale stanno indagando i carabinieri che già hanno sentito persone del comune. Da due anni comunque l'attenzione degli inquirenti è puntata sul servizio idrico della città di Alcamo anche grazie alle segnalazioni dell'ecchizio responsabile della corruzione, il segretario generale Cristofaro Orricupati funzionario colto e preparato che da stamane ha preso servizio al comune di Terrasini. Orricupati gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico e Terrasini dalla sua preparazione potrà ricevere solo benefici.